Prima parte del canto trentatresimo dell'Inferno. Anzitutto cerchiamo di capire dove siamo. Diciamo che preso di peso proprio da uno dei giganti, Dante, insieme con Virgilio, viene appoggiato sul fondo del nono cerchio, che è il cerchio dei traditori, cioè di chi ha ingannato, chi si fidava di loro, chi ha ingannato venendo meno ai legami, come dire, più importanti di un uomo, legami della famiglia, i legami della patria, i legami dell'ospitalità. Quindi si tratta proprio di cuori di ghiaccio, persone che si sono dimostrate insensibili di fronte ai sentimenti più puri dell'umanità e per questo motivo sono ficcati lì nel ghiaccio. L'ultimo fiume infernale, il Cocito, è ghiacciato, anche per la vicinanza con Lucifero, il quale soffia e manda un vento che gela tutto. Che gela tutto. Ecco, la prima zona è la zona della Caina, dove ci sono i traditori dei congiunti. Sono immersi nel lago ghiacciato, alimentato dal fiume Cocito, e ne emergono solo con la testa. È concesso loro di tenere il viso basso. Le loro lacrime possono fluire, irrigidendosi soltanto a contatto col ghiaccio. Questa è una grande differenza con la terza zona. Come vedremo, infatti, nella terza zona, lì le lacrime ghiacciano e quindi rimane come una sorta di concavo dell'occhio, è tutto riempito di ghiaccio per sempre. Poi c'è la seconda zona, che è l'antenora, quella dei traditori della patria e del proprio partito. È lì che incontreremo il conte Ugolino e l'arcivescovo Ruggeri. Devono stare col viso all'insù, poiché il ghiaccio copre metà del capo. Le lacrime, subito condensate dal vento, impediscono agli occhi di mantenersi aperti. Poi, nella terza zona, l'autolomea è il traditore degli ospiti e di chi si è fidato di loro, degli amici che si sono fidati di loro. Sono in posizione supina, quindi sdraiati. Le lacrime ristagnano a questo punto più facilmente, perché essendo sdraiati, quindi, dicevamo che, appunto, ghiacciano queste lacrime, si congelano, in modo che sia impedita l'uscita delle altre lacrime, le quali, non trovando sbocco, si riversano all'interno e aggravano il dolore. La quarta zona, quella della Giudecca, è quella dei traditori, dei benefattori, dell'autorità umana e dell'autorità divina, dove troveremo, appunto, Bruto e Cassio, gli uccisori di Cesare, e Giuda, il traditore di Cristo. I traditori dei benefattori sono confitti interamente nel ghiaccio, stanno in posizioni diverse che hanno vari significati. Quelli distesi hanno tradito i loro pari, quelli eretti hanno tradito i loro superiori, quelli a capofitto hanno tradito i loro inferiori, quelli rovesciati indietro, piegati in due, hanno tradito entrambi. La loro condizione è il silenzio assoluto. Puniti da Lucifero sono i traditori dell'autorità umana e divina. Lucifero ha nella bocca centrale Giuda e Iscariota, traditore di Cristo, il cui corpo fuoriesce. Nelle bocche laterali, col capo che fuoriesce, si trovano Marco Giugno Bruto e Gaio Cassio Longino, che congiurarono contro Cesare, quindi traditori dell'autorità imperiale. Quindi per Dante sono stati dei traditori tremendi anche loro, perché appunto hanno tradito... Per Dante era importantissimo l'impero. Dicevamo quindi che nel canto trentatreesimo passeremo dalla seconda zona del nono cerchio, che è quella dell'antenora, dei traditori della patria. Quindi perché si chiama Caina la prima zona lo possiamo ben capire. Caino ha ammazzato il fratello Abele. Antenore era un guerriero troiano che aveva tradito la patria. Ecco il motivo per cui questa zona si chiama dell'antenora. Poi passeremo nella Tolomea, dove ci sono i traditori degli ospiti. La bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator forbendola ai capelli del capo che li avea di retroguasto. Ecco, dicevamo, una scena orribile, che si collega direttamente con la fine del trentaduesimo canto. Dante e Virgilio stanno visitando questa zona appunto dell'antenora quando vedono una coppia abbastanza inusuale, che è costituita dal conte Ugolino che rosicchia, rode il cranio, la testa dell'arcivescovo Ruggeri. Sono traditori della patria, traditori di Pisa entrambi, pisani entrambi, nel senso che il conte Ugolino si trova lì perché ha tradito la sua città, ha svenduto dei castelli, per cui Pisa ha perso parti di territorio e anche migliaia di vite a causa sua perché li ha traditi nel corso di una battaglia, i pisani. L'arcivescovo Ruggeri sta lì perché ha tradito invece il conte Ugolino. Nel senso che il conte Ugolino era scappato dalla città perché aveva paura di rappresaglie. L'arcivescovo Ruggeri gli ha detto no, non ti preoccupare, ritorna in città che ti perdoniamo tutto. Quando invece lui è ritornato in città, l'hanno messo in carcere insieme ai figli e ai nipoti, due figli e due nipoti, anche se Dante qua distorce un po' perché li fa diventare quattro figli, forse anche per aumentare un po' il pathos drammatico della scena. Poi questi sono rimasti nella torre della Muda, chiamata così perché c'erano delle aquile, perché Pisa era a Ghibellina, che cambiavano le penne insomma in questa torre. Adesso si chiama però torre della fame, dal momento in cui appunto hanno perso la vita il conte Ugolino e i suoi figli e i nipoti in questa torre. Nel senso che l'arcivescovo Ruggeri li ha imprigionati lì, ha detto loro che se volevano continuare a vivere i loro parenti, i loro amici e i conoscenti dovevano pagare una somma piuttosto onerosa. Ebbene, questi parenti e amici pagano una somma per un certo periodo. Ma poi l'arcivescovo Ruggeri e gli altri maggiorenti della città di Pisa decidono che vogliono ancora soldi, vogliono ancora soldi e altri soldi, fino a quando insomma dicono che ormai i soldi sono finiti, amici conoscenti hanno raccattato tutto quello che potevano raccattare, allora loro che cosa fanno? Sprangano la porta della cella del conte Ugolino e dei suoi figli e loro muoiono dentro e quindi riaprono quella porta giorni e giorni dopo quando troveranno solamente dei cadaveri. È una morte orribile. E quindi è stato tradito il conte Ugolino perché l'arcivescovo Ruggeri gli aveva promesso di poter ritornare in città senza essere appunto imprigionato e invece non lo fece. Ecco il motivo per cui quando ha ritrovato questo suo nemico personale, questo suo avversario, perché è morto anche lui insomma, prima del 1300, subito si è accostato a lui e ha iniziato a rodergli il cranio e continuerà a farlo per l'eternità. Continuerà a mangiare la testa dell'arcivescovo Ruggeri e poi questa si riformerà e lui continuerà a mangiarla. Ecco la scena tremenda che vede Dante. A questo punto Dante, alla fine del 32esimo, gli chiede ma perché gli sei così vicino e mostri diciamo in un modo così crudele e orribile la tua vicinanza nei suoi confronti? Come dire, in sostanza? Perché sei lì a sgranocchiare la sua testa? Allora il conte Ugolino, la bocca sollevò dal fiero pasto. Per un attimo interrompe il suo pasto. C'è, dicevamo, questo rodere il cranio dell'arcivescovo Ruggeri forbendola ai capelli. Stiamo anche a un po' pulire perché è tutta insanguinata la bocca di questo cranio, di questo cervello che sta mangiando dell'arcivescovo Ruggeri. Del capo che gli aveva di retroguasto e ha questa testa dell'arcivescovo Ruggeri tutta appunto mangiucchiata da lui. Poi cominciò. Tu vuoi che io rinnovelli disperato dolor che il cuore mi preme già pur pensato? Tu vuoi, hai desiderio di, vuoi a tutti i costi, insomma, che io ricordi rinnovelli. Un dolore disperato che mi preme il cuore assolutamente al pensarlo prima ancora di parlarne. Solo il ricordo di questo mi getta nell'angoscia più nera. l'episodio del Conte Ugolino di Donoratico, nobile, Conte appunto di Donoratico, un paese nei pressi appunto di Pisa, Livorno, eccetera, che era diventato anche capo della città per un certo periodo, ma come abbiamo spiegato, aveva usato di questo potere in un modo inappropriato. Bene, questo episodio è suddiviso in due parti. La parte introduttiva è alla fine del canto precedente, trentaduesimo. Permette di iniziare questo nuovo canto al colmo del pathos. Già siamo, non è che ci sia una gradazione, siamo già nel pieno della tragedia, insomma, col racconto della sua morte, subito nel segno di una grande intensità drammatica. La bocca sollevò. Quindi la parola con cui inizia questo canto già ci fa capire che qua si parlerà di cibo, ma non si parla di cibo in un modo spirituale. Pensate ad esempio all'Eucarestia per i cristiani, un cibo spirituale. No, qui siamo agli antipodi, qui siamo nell'antropofagia, nel cannibalismo, come vedremo, no? Arriveremo anche a parlare di questo. Ma se le mie parole esser di insieme che frutti infami al traditor Chirodo, parlare e lagrimar vedrà insieme. Ecco, qua ci sono dei rimandi ad Enea e quindi all'Eneide di Virgilio. Infatti, Didone aveva chiesto ad Enea di raccontare le sue vicende, il suo passato, eccetera. E anche lì Enea aveva detto che ricordare questo per lui era una sofferenza enorme. Però, se proprio Didone voleva a tutti i costi saperlo, allora lui si disponeva a farlo e per due libri dell'Eneaide, il secondo e il terzo, raccontò queste vicende, l'antefatto, insomma, dell'Eneaide. Stavolta, il conte Ugolino dice, io veramente non vorrei ricordare quello che mi è successo. Se però questa cosa può generare infamia per quel maledetto traditore di cui adesso sto rodendo la testa, il traditore chirodo di cui sto mangiando la testa, beh allora parlare e lagrimare vedrai insieme. È una cosa che ci fa venire in mente anche Francesca. Io non so chi tu sei né per che modo venuto sei qua giù. Rivolto a Dante, non so chi sei e con quale modalità sei arrivato fino qua giù, fino al fondo dell'inferno. ma fiorentino mi sembri veramente quand'io todo. Quando ti sento parlare mi sembra che tu abbia un accento fiorentino. Tra pisani e fiorentini non correva buon sangue a dire la verità, eh? Ecco, dicevamo, si evidenzia l'analogia di Ugolino con l'Eneide e con l'altro vertice popolare della poesia infernale. Francesca, infatti, dice dirò come colui che piange dice quinto dell'inferno. E adesso trentatresimo dell'inferno parlare e lagrimar vedrai insieme. Tu devi sapere chi fui Conte Ugolino. Tu devi sapere che io nella vita mi chiamavo così ero il Conte Ugolino e questi e l'Arcivescovo Ruggeri questi di cui sto mangiando la testa è l'Arcivescovo Ruggeri. Ora ti dirò perché i son tal vicino. Ora ti racconterò come mai sono vicino in questa modalità così particolare che per l'effetto dei suoi mai pensieri fidandomi di lui io fossi preso e poscia morto dir non è mestieri. Probabilmente essendo tu un fiorentino conosci benissimo la storia la vicenda che è avvenuta del resto era avvenuta pochi anni prima di come lui con i suoi mai pensieri l'Arcivescovo Ruggeri con le sue trame le trame dell'Arcivescovo Ruggeri e dei Guelfi insomma della città che vogliono prendere il potere se non erano no 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 scusate era sempre Ghibellini e invece era un po' filo Guelfo il Conte Ugolino e soprattutto Nino Visconti che era un suo parente e quindi questi Ghibellini l'Arcivescovo Ruggeri e i Pisani eccetera erano molto sospettosi nei suoi confronti allora che cosa fanno si mettono d'accordo di far questo di far fuori il Conte Ugolino e quindi lui che era scappato dalla città perché aveva visto chi aveva preso il potere in città era andato via l'Arcivescovo Ruggeri solennemente giura di salvargli la vita se lui ritorna a Pisa ma quando lui ritorna come abbiamo già spiegato viene incarcerato e poi ucciso ma questa cosa probabilmente la sai già caro Dante Giovanni Villani nella sua cronaca definisce Ugolino il traditore dal traditore tradito lui è traditore Ugolino abbiamo già spiegato tantissimi pisani hanno perso la vita hanno perso territorio eccetera quindi lui ha tradito la città di Pisa tradito dal traditore cioè tradito dall'Arcivescovo Ruggeri così come Ugolino aveva più riprese tradito i suoi concittadini causando la morte di migliaia di essi fu tradito dal vescovo di Pisa imparentato con il cardinale Ubaldini che abbiamo visto nel sesto cerchio quello degli eretici tutti conoscevano come mai Ugolino era stato incarcerato dove era morto dire non è mestiere non è necessario dirlo non è necessario raccontarlo ma nessuno poteva raccontare i dettagli di quella tragedia se non chi ne era stato suo malgrado protagonista quindi sai tutto in generale ma non sai come siamo morti come siamo morti io e i miei figli posso raccontarlo solamente io però perciò quel che non puoi avere inteso cioè come la morte mia fu cruda udirai e saprai se ma offeso però potrebbe avere anche un valore avversativo qua insomma una cosa che tu di sicuro non puoi sapere e come fu crudele la mia morte e saprai potrai verificare se lui davvero fino a che punto mi ha offeso fino a che punto diciamo mi ha tormentato breve pertugio dentro dalla muda c'era una breve una piccola fessura volevo dire dentro questa torre della muda la qual per me ha il titolo della fame da quel momento in poi abbiamo già spiegato che quella torre di Pisa viene chiama che non è la torre di Pisa della insomma vicino alla cattedrale al Duomo no ma questa è vicino all'università proprio di Pisa se andate proprio vicino alla normale di Pisa trovate una piazzetta in cui non è che si capisce bene però c'è una proprio una lapide una scritta piazza dell'orologio se non erro in cui c'era scritta ecco lì questo è il luogo dove c'era la torre in cui era stato incarcerato il conte Ugolino e che conviene ancora che altrui si chiuda e sarebbe meglio che questa prigione si chiudesse e che nessun altro insomma morisse così come siamo morti noi in quel modo la torre della Muda lì venivano rinchiuse le aquile allevate dal comune di Pisa per cambiare le penne cambia da allora il suo nome in torre della fame oggi è nel corpo del palazzo dell'orologio in piazza dei cavalieri di Santo Stefano a Pisa perché questa è una tragedia pisana e il conte sembra quasi vantarsene la qual per me ha il titolo quasi orgoglioso del fatto che quella torre abbia cambiato nome per causa sua ebbene quel breve pertugio quella piccola feritoia ma ve ha mostrato per lo suo forame più lune già erano passate più lune più mesi lunari ecco non un anno ma quasi insomma era passato da quando era stato incarcerato quando io feci il mal sonno che del futuro mi squarciò il velame quando feci un sogno che mi fece capire che cosa mi sarebbe accaduto nel giro di pochissimo tempo perché per i medievali soprattutto ma non solo i sogni erano premonitori questi pareva a me maestro e donno questi costui l'arcivescovo Ruggeri l'ho sognato e sembrava il mio padrone il mio signore il signore della città cacciando il lupo e i lupicini al monte perché i pisani veder lucca non ponno questo sogno quest'incubo diciamo si presenta così al conte Ugolino vede l'arcivescovo Ruggeri che guida una specie di caccia al lupo e infatti lui insegue il lupo e i lupicini vediamo un po' intuizione chi sarebbero il lupo e i lupicini lui e i suoi figli ovviamente verso il monte il monte pisano proprio che separa Pisa da Lucca per cui i pisani non possono vedere Lucca perché in mezzo c'è questo monte l'incubo premonitore che Ugolino e i suoi figli e nipoti in realtà fanno perché non lo fa solo lui questo sogno lo fanno contemporaneamente quella notte anche gli altri che si trovano in prigione insieme a lui presagisce la loro atroce fine questi cioè l'arcivescovo pareva a me maestro e donno dominus signore cacciando il lupo e i lupicini cacciando noi quindi al monte verso il monte pisano con cagne magre studiose conte gualandi con sismondi e con lanfranchi si aveva messi dinanzi dalla fronte in questa caccia con delle cagne magre evidente che le cagne sono magre quando sono affamate studiose conte cioè con cagne che hanno molto impegno molta sollecitudine nel cacciare e conte molto esperte quindi i gualandi sismondi e lanfranchi sono proprio queste famiglie ghibelline che erano al potere allora a Pisa in Pisa si aveva messi dinanzi dalla fronte lui l'arcivesco Ruggeri era accompagnato anzi era preceduto diciamo da queste famiglie famose famiglie nobili diciamo pisane in piccio il corso mi pariano stanchi lo padre e i figli mi sembrava che la lupa lupicini insomma fossero stanchi però qua dice proprio lo padre e i figli perché è chiaro quel sogno è premonitore della sua sorte sua e dei suoi figli e con la guta e scane mi pare a loro veder fender gli fianchi mi sembrava proprio che i cani avessero raggiunto le lupe i lupicini eccetera avessero iniziato ad affondare i loro denti aguzzi nei fianchi di questi lupi e lupicini i gualandi sismondi e i lanfranchi sono famiglie note note famiglie pisane e con la guta e scane mi pare a loro veder fenderli i fianchi anche nel sonno è presente il motivo ossessionante del canto i lupi sono divorati dalle cagne così come il conte adesso divora il cranio del vescovo così come forse il conte ha mangiato i suoi figli e questo è il culmine del dramma lo vedremo adesso quando fui desto innanzi la dimane quando mi svegliai giorno dopo questo sogno pianger sentì fra il sonno i miei figlioli non erano ancora svegli loro e stavano piangendo si trattava di un incubo spesso quando facciamo gli incubi anche le persone che sono a fianco a noi lo sanno vedono che noi ci lamentiamo che erano con me di mandare del pane ah scusate no no si sono svegliati anche loro e hanno fame hanno fame tutto il canto ruota intorno a questo discorso della fame del mangiare persino vedremo la seconda parte quella della Ptolemea dei traditori degli ospiti anche là c'entra il mangiare il pasto il cibo evidentemente come abbiamo spiegato siccome non ci sono più i parenti che pagano la multa diciamo allora gli attendenti i secondini non portano non hanno portato più da mangiare al Conte Ugulino e ai suoi figli in realtà una persona muore prima di sete che non di fame però è chiaro siccome qua il punto principale è questo quello della fame del mangiare del rodere sin dall'inizio del canto la bocca la sollevò dal fiero pasto rimane questa la cosa fondamentale ben sei crudele se tu già non ti sei proprio sei proprio crudele se non ti duoli se non provi dolore pensando ciò che il mio corso annunziava pensando a quello che io già avevo avevo capito in base a quel sogno e se non piangi se non piangi per una storia del genere perché cosa sei solito piangere già erano besti erano svegli anche loro e l'ora si appressava che il cibo ne solea essere addotto si avvicinava all'ora in cui generalmente i secondini portavano da mangiare e per suo sogno ciascun dubitava ma ciascuno tutti quanti contemporaneamente avevano fatto quel sogno e quindi tutti quanti già dubitavano del fatto che portassero loro da mangiare e io sentì chiavare l'uscio di sotto sentì che chiusero a chiave l'uscio la porta della cella all'orribile torre ondio guardai nel viso ai miei figli voi senza far motto per cui io quando sentì che stavano chiudendo la porta chiave guardai i miei figli senza proferire parola che già c'eravamo capiti come dire qua stiamo per morire io non piangea io non mi misi a piangere ero il padre ero l'adulto in quella situazione si dentro impetrai cioè sintetizzai tutto il mio dolore espressi compressi quasi aveva compresso il suo dolore nell'intimo del suo animo senza esprimere senza farlo vedere al di fuori piangeva Nelli io non piangea piangeva Nelli è un chiasmo io non piangea piangeva Nelli quindi i soggetti sono termini estremi e i verbi i predicati che poi è lo stesso verbo il verbo piangere termini medi e Anselmuccio mio disse tu guardi sì padre che hai vedo ecco uno dei figli si rivolge al conte Ogolino e chiede vedo che stai guardando che cosa che cosa hai che cosa provi come mai ci guardi in questo modo perciò non lagrimai né risposio tutto quel giorno né la notte appresso infinché l'altro sol nel mondo uscio è chiaro che di fronte a questa domanda del figlio non ha niente da dire in risposta il conte Ogolino e quindi continua sempre a reprimere i suoi sentimenti non si mette a piangere non risponde per tutto quel giorno e anche per la notte dopo fino a quando non passò una giornata intera non passarono 24 ore come un poco di raggio si fu messo nel doloroso cacere secondo giorno ecco attenzione oltre ad essere una sorta di parodia dell'eucaristia questa storia è anche parodia della creazione nel senso che avviene tutto in sei giorni proprio come la creazione è narrata nel Genesi quindi secondo giorno come un poco di raggio quindi non appena giunse un po' di sole in quella cella nel doloroso cacere io scorsi per quattro visi il mio aspetto stesso io vidi nei visi dei miei quattro figli per Dante in realtà come abbiamo spiegato due figli e due nipoti nella realtà dei fatti io vidi il mio stesso aspetto cioè l'aspetto di una persona che ha fame e sete tra virgolette diciamo noi ambo le man per lo dolor mi morsi quando capì che anche i figli erano come me affamati affame eccetera allora mi morsi le mani per il dolore per la sofferenza per l'angoscia di quella situazione ed ei al sermuccio pensando che io il fessi per voglia di manicar notate l'enjammant di subito le vorsi anzi scusate non egli ma essi cioè tutti e quattro i figli pensando che io mi mordessi le mani per la fame allora si alzarono subito all'improvviso si alzarono e dissero e dissero tutti insieme padre assai ci fia mendoglia se tu mangi di noi sarebbe per noi molto meno doloroso se tu mangiassi di noi mangia pure mangiaci hai fame mangia mangia noi tu ne vestisti cioè tu ci hai fatto nascere queste misere carni ci hai dato quindi la vita e hai fatto in modo quindi che noi crescessimo ebbene tu le spoglia prenditi la carne che è stata generata da te quetami allora per non farli più tristi a questo punto io che ero così prima così addolorato mi mordevo le mani a questo punto io mi fermai mi quetai appunto per non renderli ancora più tristi e angosciati lo di e l'altro stemmo tutti muti secondo e terzo giorno tutti muti e silenziosi hai dura terra perché non cantapristi ecco vedete termina con questa apostrofe insomma questa prima parte del canto perché non ti sei aperta di fronte a questo dolore così tremendo poscia che fumo al quarto di venuti dopo quando giungemmo al quarto giorno da quando ci avevano chiuso la porta gaddo mi si gittò ai piedi si gittò ai miei piedi gaddo dicendo padre mio che non mi aiuti cioè implorando l'aiuto da suo padre qui vi morì fu il primo a morire gaddo di fame e come tu mi vedi vi dio cascarli tre ad uno ad uno e come tu vedi me così io vedi cascare uno dopo l'altro tra il quinto dia e il sesto ecco vedete vi ho già detto anticipato prima i sei giorni della creazione li vidi morire l'uno dopo l'altro on dio mi diedi ecco dicevamo anche il racconto della creazione è ispirato a Dante poscia che fumo al quarto di venuti padre mio che non mi aiuti il rapporto tra il padre e il figlio che nella scrittura biblica è un rapporto d'amore qua connotato da questa antropofagia di cui parleremo adesso il quinto dia e il sesto padre mio che non mi aiuti anche questa è quasi una reminiscenza evangelica nel senso che nel Vangelo di Matteo a un certo punto Cristo sulla croce dice mio Dio mio Dio perché mi hai abbandonato comunque in punto di morire meglio non sulla croce non mi ricordo bene no no sulla croce sì è lì è lì la massa bakhtani è un sono dei termini ebraici che vogliono dire proprio questo Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato padre perché mi hai abbandonato è la stessa cosa che chiede che dice gaddo urla gaddo a suo padre conte ugolino ripresa anche del salmo 22 dell'antico testamento on Dio mi diedi già cieco a brancolar sovra ciascuno a questo punto la scena è drammatica sono morti tutti e quattro i figli io mi diedi a brancolar sovra ciascuno due di li chiamai sesto e settimo sette giorni proprio come insomma i giorni della settimana perché sono i sei giorni della creazione più un giorno di riposo poi che fur morti brancolai per due giorni sopra di loro senza sapere cosa fare poscia più che il dolor potè il digiuno anche se suona la campanella dobbiamo spiegare questo verso fondamentale perché ci sono due interpretazioni dopodiché più che il dolore potè il digiuno adesso spiegheremo quando ebbe detto ciò con gli occhi torti riprese il teschio misero coi denti che furo all'osso come d'un can forti finita la sua suo racconto le sue memorie il conte Ugolino riprende a rodere il cranio dell'arcivesco Ruggeri come faceva come stava facendo prima ma stavamo spiegando attenzione poscia più che il dolor potè il digiuno tronca il racconto facendoci venire in mente alla fine del racconto di Francesca quel giorno più non vi leggemmo avanti ma soprattutto la maggior parte degli studiosi e quindi anche noi propende per la lettura antropofaga poscia più che il dolor potè il digiuno lo interpretiamo in questo modo che lui ha davvero mangiato dei figli come loro gli avevano chiesto di fare degna chiusura di un racconto che si presenta come infernale ribaltamento dell'ultima cena tutto l'episodio ruota intorno al mangiare riprese il teschio misero coi denti infatti riprende subito a mangiare e quindi lo interpretiamo in questo modo orrido perché così è probabilmente è più coerente anche col resto del canto altri invece interpretano in un modo diverso poscia più che il dolore potè il digiuno per altri significa più che morire per dolore morì per per il digiuno perché morì di fame capite le due interpretazioni ma ripeto noi proprendiamo per la prima pochi altri commentatori spiegano in un modo più edulcorato o meno plausibile che Ugolino avrebbe poi perso la vita più per la fame che per il dolore termina qui ma non termina perché la volta prossima leggeremo insomma la seconda parte del canto termina qui la spiegazione di oggi fino al verso 78 8 8